ciao amici bentornati nelle lezioni precedenti abbiamo imparato a conoscere i nomi della frutta e i nomi della verdura in questa lezione conosceremo i tipi di carne potrebbe servirci in macelleria o al ristorante iniziamo subito carne di maiale pollo carne di manzo agnello tacchino anatra vitello coniglio pancetta involtini prosciutto crudo prosciutto cotto salame salame salsiccia al ristorante puoi ordinare una bistecca al sangue una bistecca di media cottura una bistecca ben cotta se vuoi imparare se vuoi imparare come ordinare da mangiare e da bere al ristorante guarda guarda questa video lezione bene per oggi è tutto se hai qualche domanda da farmi scrivi un commento sotto ti risponderò il prima possibile se ti è piaciuto il video metti mi piace iscriviti al mio canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video ciao ci vediamo nel prossimo video ciao